Non credo che sia stata una buona idea, comincio ad avere delle allucinazioni e c'è una patatina che mi parla. Ah sì? E che cosa ti dice? Mangiami, mangiami, mangiami ciccione. Che sta succedendo qui? Non mangiate niente? Non è buono? Facciamo lo sciopero della fame per far tornare Camille. Ma tornerà a Camille? Verrà per incontrare il giudice e sarà lui a decidere se resterà con la zia o no.